Durante le varie feste nelle località turistiche non sono poche le bancarelle che propongono i propri prodotti spacciandoli per affari sicuri, ma spesso questi sono dei clamorosi falsi, prodotti con materiali scadenti e dannosi per la salute. Per questo sono frequenti i controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolare della Guardia di Finanza, che ha tra i suoi scopi anche il contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. Le fiamme gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno individuato e denunciato per i reati di commercializzazione di prodotti falsi e ricettazioni cinque soggetti extracomunitari che detenevano per la vendita merce contraffatte non sicura per la salute. In particolare i finanziari della compagnia di Soverato hanno eseguito un costante monitoraggio del mercato settimanale del litorale, che ha consentito di individuare gli spostamenti dei soggetti coinvolti e le modalità di vendita della merce e ha permesso di sottoporre al sequestro circa 900 articoli tra capi di abbigliamento, calzature, borse, occhiali e accessori realizzati con materiali scadenti e potenzialmente nocivi, nonché recanti, loghi e marchi albinamente falsificati di note case produttrici e meson di lusso, il tutto per un valore di circa 17.000 euro.